Musica Buonasera cari te spettatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento che ogni sera dopo il telegiornale noi mandiamo in onda con varie argomentazioni questa sera riparliamo nuovamente di biologico, sono ospiti ancora i rappresentanti di Suolo e Salute l'organismo di controllo e certificazione biologica, sono dei vicini di casa perché sono a poche centinaia di metri dalla nostra sede ritorniamo a parlare di biologico e questa sera insieme a noi nei nostri studi c'è il direttore regionale Marche di Suolo e Salute Cristiano Centanni, direttore benvenuto Grazie dell'ospitalità Bene, allora con il presidente nella scorsa puntata abbiamo fatto un po' un quadro generale abbiamo capito chi siete, cosa fate, come siete nati insomma praticamente siete nati insieme al biologico negli anni 70 abbiamo capito ma principalmente cerchiamo nel dettaglio entrare proprio nelle pieghe del vostro operato, del vostro lavoro che cosa fa appunto l'organismo di controllo nel biologico Suolo e Salute è un organismo di controllo e certificazione che è accreditato da Credia che è l'ente unico nazionale per gli accreditamenti e quindi è autorizzato dal ministero per svolgere le attività di controllo e certificazione è un organismo di controllo che funge e ha un ruolo di pubblica utilità e o servizio nelle marche prevalentemente si occupa di certificare le produzioni biologiche prevalentemente il core business dell'azienda nelle marche ha certificazione biologica però si occupa anche di certificare la produzione integrata sotto forma di altri schemi che sono le SQNP che è il Sistemi di Qualità Nazionale Produzione Integrata e il marchio della Regione Marche, il marchio QM nonché la Uni 11233 relativo alle produzioni integrate nelle filiere agroalimentari ha competenze e anche certificazioni su Global Gap e etichettatura carne bovina che è un regolamento sempre europeo quindi questo è il panorama diciamo di suole salute all'interno della Regione Marche le aziende agricole, le aziende zootecniche, insomma tutti i produttori che comunque operano in questo momento operano nel settore biologico sono nel settore biologico allora la certificazione è una cosa importante, è una garanzia per il consumatore è un bollino per l'azienda però soldoni che cos'è? che cosa vuol dire certificazione biologica dell'azienda? allora innanzitutto la certificazione biologica è regolata da un regolamento europeo che è l'834 del 2007 che è relativo alle produzioni biologiche e all'etichettatura dei prodotti alimentari è un regolamento volontario essendo un regolamento volontario vuol dire che l'azienda deve aderire al biologico in maniera consapevole, responsabile ed informata per ogni regolamento poi va a normare settori di competenza che sono appunto il settore vegetale, il settore zootecnico tutto il panorama del settore delle preparazioni quindi mangimi, viticultura, preparazioni in senso stretto qualsiasi tipo di preparazione agroalimentare acquacultura e importazione questi sono i macro settori che il regolamento va a regolamentare quindi va a normare logicamente l'operatore certificare vuol dire essere consapevoli e competenti che se entro per certificare un'azienda vegetale ho obblighi e diciamo doveri da rispettare per quanto riguarda la certificazione faccio un esempio classico il fatto che nell'agricoltura biologica non possono essere utilizzati fitofarmaci, principi attivi possono essere utilizzati dei principi, dei prodotti di difesa ma non chimici e comunque inclusi all'interno del regolamento oppure la concimazione, una concimazione organica non minerale che rispetti il quantitativo di azoto ad ettaro in maniera tale da non inquinare le falde acquifere l'obbligatorietà dell'avvicendamento, delle rotazioni per aumentare la sostanza organica nel terreno e questo vale per la parte vegetale come anche per la componente zootecnica quindi stalle che siano a dimensione degli animali quindi stalle che abbiano un paddock esterno o comunque sia l'accesso esterno per il pascolamento alimentazione biologica o in conversione quindi sono tutti requisiti che l'operatore deve conoscere e deve rispettare questo vuol dire certificazione biologica accanto a questo però c'è anche un iter burocratico e documentale che l'azienda deve inevitabilmente percorrere quindi vuol dire avere due interlocutori uno è il centro di assistenza agricola o tecnico abilitato per diciamo iscriversi al biologico cioè notificare la propria attività sul portale della regione Marche l'altro interlocutore è l'organismo di controllo che poi va a avviare tutto l'iter e le procedure per certificare quindi l'azienda e quindi verifica di avvio per vedere e verificare che i requisiti siano rispettati la documentazione viene riesaminata e alla fine del riesame della documentazione all'operatore viene data io la dichiaro la patente di guida il documento giustificativo tale per cui può operare all'interno dell'ambito biologico i suoi prodotti chiaramente sono tali quindi insomma un'azienda per dirsi biologica un prodotto tale ha bisogno di diritti e doveri insomma deve fare determinate cose queste cose gliele dite voi quelle che deve fare e poi c'è anche purtroppo la burocrazia che è questo mare magnum col quale tutte le aziende e gli operatori hanno a che fare però voi svolgete un ruolo importante cioè voi dite allora tu per essere biologico devi fare questo, questo, questo e questo e poi controllate appunto che quello che è il dettame venga rispettato dall'altra parte c'è il consumatore quello che col carrello della spesa entra nel supermercato nei negozi specializzati e va ad acquistare questi prodotti biologici e quindi come fa un consumatore la massaia di tutti i giorni che vuole intraprendere questo percorso di salute a identificare un prodotto biologico tra i tanti migliaia e migliaia che ci sono il regolamento europeo sul bio ha pensato proprio all'identificazione cioè il prodotto biologico deve essere chiaramente identificabile ha realizzato un'immagine che è il logo della comunità europea per quanto riguarda il biologico che viene applicato su tutti i prodotti su tutte le etichette dei prodotti alimentari confezionati, quindi preconfezionati e il logo della comunità europea è una foglia costituita da 12 stelle bianche su sfondo verde con al centro una cometa questo è il formato grafico del logo europeo ma non è sufficiente questo perché la comunità europea è andata oltre bisogna innanzitutto fare riferimento al metodo di produzione biologica cioè nel senso scrivere nella denominazione del prodotto l'indicazione biologico o bio bio è un'abbreviazione che è comunque consentita dal regolamento quindi confettura extra di pesche bio o biologiche questa è diciamo la prima indicazione poi esiste spesso e volentieri dietro l'etichetta del prodotto altri indicazioni prima di tutto deve riportare nello stesso campo visivo della foglia il numero del codice dell'organismo di controllo che ha controllato l'operatore che ha realizzato il prodotto in questo caso suole salute si identifica come ITBio 004 e poi il numero del codice dell'operatore che ha realizzato il prodotto che ha realizzato l'ultima attività recente questo codice deve essere nello stesso campo visivo ed è garanzia per il consumatore che acquista un prodotto questo prodotto è biologico ed è importante il fatto che i codici degli operatori sono codici che possono essere consultati in maniera pubblica da qualsiasi utente attraverso un portale che è il portale del sistema informatico agricolo nazionale che digitando il codice io verifico il produttore verifico che tipo di prodotti fa e ho una diciamo panoramica dell'informativa sull'operatore ecco quindi se io vado al supermercato prendo una scatola di pelati vedo sto codicillo qui attraverso quello riesco a tracciare si digita il codice su un portale su un link specifico pubblico e posso scaricare le informazioni del documento giustificativo e certificato di conformità dell'operatore per acquisire quante più informazioni possibili sull'operatore quindi non basta solo metterci bio biscotti bio ci vuole questo logo e con questi numeri precisi e aggiungo un'altra cosa relativamente al fatto che il regolamento europeo è stato il primo forse precursore rispetto a tante normative a indicare l'origine della materia prima sempre nel campo visivo del logo l'operatore è obbligato a mettere l'origine della materia prima agricola quindi ci troveremo di fronte a una scritta agricoltura Italia nel caso in cui tutta la materia prima agricola è di origine italiana UE se la materia prima è dell'Unione Europea UE non UE se viene in parte dall'Unione Europea da paesi terzi e questi sono diciamo e non UE nel caso in cui venga da paesi terzi quindi l'origine della materia prima che è un dato che noi troviamo in etichetta quindi è un dato per l'olio d'oliva ad esempio l'olio d'oliva biologico prodotto UE oppure Italia noi nelle confetture piuttosto che nella pasta biologica piuttosto che nelle verdure surgelate in qualsiasi prodotto alimentare certificato biologico c'è l'origine della materia prima ecco insomma quindi per voi consumatori insomma queste cose che ci ha detto il direttore regionale delle Marche di suolo e salute è importante perché ci guida nella nostra spesa quotidiana insomma questo è fare divulgazione informazione è anche una vostra mission e però quindi partiamo anche dal fatto che la certificazione appunto come abbiamo detto adesso è proprio una garanzia per il consumatore quindi le aziende che hanno questa certificazione sono aziende che rispettano dei canoni importanti la certificazione è garanzia per il consumatore questo perché l'organismo di controllo opera sulla base di di principi di fondamentale importanza che sono l'indipendenza la trasparenza e l'etica questi sono praticamente i nostri tre principi ai quali noi ci ispiriamo come organismo di controllo e che sono necessari poi anche per essere accreditati e riconosciuti come organismo di controllo e certificazione quindi come prima cosa un organismo di controllo è rispetta l'etica professionale quindi questi tipi di principi in ogni modo è un sistema che è fatto da un insieme è un sistema diciamo che ha molti attori che vigilano e vanno a monitorare sul sistema di controllo e non c'è solo noi siamo diciamo controllati il nostro ente di riferimento è il ministero delle politiche agricole forestali l'ICQRF insieme alla regione Marche e all'unità territoriale della regione Marche sviluppa dei piani annuali di monitoraggio sui sulle verifiche che noi facciamo sui piani di controllo che noi adottiamo quindi c'è il il comando dell'unità forestale dei carabinieri che a sua volta effettua dei controlli quindi comunque sia c'è un sistema di monitoraggio e vigilanza fatto di molti molti attori quindi questo è anche questo garanzia per il consumatore inoltre l'azienda una volta l'azienda agricola o l'azienda di trasformazione ozotecnica che entra all'interno di un sistema di certificazione viene classificata sulla base di un rischio aziendale questo non vuol dire pericolosità vuol dire rischio in relazione a dei parametri che ci sono stati dati da un regolamento tecnico e in base a quello viene sviluppato un piano di controllo il piano di controllo prevede una visita all'anno su tutte le componenti dell'azienda due visite all'anno con il campione o tre visite all'anno con un campione per verificare principi attivi ammessi o non ammessi non è che una volta che uno ha avuto la certificazione c'è un piano di monitoraggio annuale che è diciamo redatto e prodotto sulla base della classificazione di un rischio aziendale esistono anche dei controlli rinforzati nel caso di segnalazioni o quindi nel caso di segnalazioni quindi l'azienda è sempre comunque controllata è un sistema diciamo di monitoraggio costante e continuo che si sviluppa negli anni e inoltre a questo noi forniamo agli enti pubblici i dati degli aziende relativamente il controllo effettuati forniamo a cadenze periodiche tutti i dati sul monitoraggio sui provvedimenti presi nei carichi degli operatori quindi c'è un lavoro importante l'iter di certificazione che di per sé risulta essere praticabile e poi ha anche tutta una serie di mantenimenti che sono sia effettuati da parte dell'organismo di controllo che da parte di attori di vigilanza e monitoraggio sul nostro operato ecco perché la certificazione è una garanzia perché sviluppa tutto un meccanismo che insomma mantiene alto il livello non solo di sorveglianza su queste aziende che vogliono operare nel biologico ma soprattutto per noi che poi il cibo ce lo mangiamo la certificazione è la prima cosa il primo il primo garante della nostra salute però come abbiamo fatto col suo presidente abbiamo anche visto dei numeri perché i numeri ci danno la dimensione abbiamo visto una dimensione più col presidente a livello nazionale adesso ci guardiamo una piccola clip un'infografica che ci dà i numeri giustamente siamo con il direttore regionale delle Marche la dimensione di Suolo e Salute Marchigiana di Suolo e Salute 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 Allora direttore, abbiamo visto numeri veramente importanti, insomma state facendo un lavorone. Un ottimo lavoro che carica di responsabilità tutta la struttura, quindi siamo soddisfatti di questo percorso. Questo è dovuto prevalentemente al fatto che abbiamo esperienza e siamo radicati sul territorio, abbiamo un stretto rapporto con il territorio. Quindi questo ci fa piacere, siamo nati qui ed è una cosa importante. I numeri ci dicono che siamo una regione molto attiva, Suole Salute è un organismo molto attivo all'interno della regione. Abbiamo poco meno di 2.000 operatori certificati che rappresentano il 65% del panorama regionale. Sono circa 77.000 ettari certificati, è a controllo prevalentemente foraggero, cerealicolo e culture industriali. E quindi questo rappresenta il 75% dell'intera superficie agricola regionale. Di questi 250 aziende hanno anche il comparto zootecnico, quindi hanno una stalla con bovini e ovini prevalentemente. Abbiamo 130 aziende che sono produttori esclusivi, 50 aziende circa si occupano di settori vitivinicolo. E tutta questa attività viene svolta nell'ufficio di Fano, qui poco distante. Mi avvalgo e ho il supporto e la collaborazione preziosa di sei tecnici e tecnici amministrativi in ufficio che svolgono tutte le attività dall'inserimento della notifica alle pratiche, quindi tutto quello che riguarda l'iter di certificazione. E soprattutto ho la collaborazione e il supporto di circa 28 tecnici, ispettori e professionisti che sono veterinari, agronomi, tecnici che si occupano di agroalimentare che sviluppano circa più di 2.400 ispezioni all'anno e con una quantità di campioni prelevati intorno a 100. Quindi numeri di grande importanza. Sviluppate tutta questa mole di lavoro a garanzia dei consumatori e anche per le aziende che ci lavorano e questo dà la dimensione anche di un qualcosa che non si percepisce, insomma tutto quello che c'è dietro il famoso bollino di cui abbiamo parlato prima e questo rappresenta per noi che facciamo la spesa tutti i giorni e che vogliamo acquistare prodotti biologici una garanzia maggiore. Quindi direttore, un grazie a lei e a tutti i suoi uomini. Grazie a voi dell'opportunità dell'ospitalità. Noi siamo qui per divulgare un messaggio. Il biologico fa bene non solo alla nostra salute ma fa bene anche all'ambiente e quindi benvengano tutte le aziende che vogliono iniziare questo percorso lavorativo e voi insomma che li supportate come abbiamo sentito e li affiancate in questa loro avventura. Quindi cari amici ringraziamo Cristiano Centani il direttore regionale Marche di Suolo e Salute grazie per essere stato con noi e averci dato questa dimensione così confortante dell'operato e del panorama biologico regionale e grazie a voi per essere stati in nostra compagnia in questo approfondimento. Grazie e ai prossimi appuntamenti. Grazie direttore. Grazie a voi ancora. Grazie a voi.